La Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, sabato sarà ad Acqualagna insieme al Ministro Raffaele Fitto per la firma dell'accordo di coesione con la Regione Marche. L'annuncio è arrivato via social tramite il Governatore Francesco Acquaroli. È importante per la nostra Regione perché segna una sottoscrizione e un accordo e ci darà la possibilità di operare su molte linee di natura strategica indispensabili a livello infrastrutturale e sulle politiche della crescita del nostro territorio. Un patto tra Palazzo Chigi e Palazzo Raffaello che porterà nel territorio 330 milioni di euro di risorse FSC, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a cui se ne aggiungeranno altri 40. Insomma, sabato arriveranno Buone Notizie ad Acqualagna, giorno in cui si inaugura anche la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Meloni è attesa alle 11 circa, possibile anche una visita ad Ampo alla Casa Museo di Enrico Mattei, fondatore dell'ENI e mentore della Premier, tanto da essere citato anche nel suo discorso di insediamento. E' chiaramente un ringraziamento al Presidente Meloni per l'impegno che mette nei confronti dei nostri territori, che per quello che concerne la sottoscrizione di questo accordo, ma anche per il potenziamento delle infrastrutture, l'emergenza sismica e alluvionale, ha visto questo governo in prima fila accanto alle istituzioni regionali e alla nostra comunità.